John, questa mattina si ringraia il spostamento dal fulgone, portavalone. Stai attento a non farti notare. Questa città è così piccola che gli abitanti notano subito certe cose. Vado, Messia Romano. John, s'il vous plait. Prendi giornali di questa città, voglio saperne di più di questo posto. Ok, Messia Romano.